Slitta di due settimane, il termine ultimo per la presentazione della manifestazione d'interesse per la FIMER. I commissari straordinari del gruppo hanno infatti deciso di posticipare, da 15 al 29 ottobre, il termine ultimo per la presentazione delle offerte vincolanti di acquisto del complesso aziendale specializzato nella produzione di inverter sociali dal 30 novembre 2023 in amministrazione straordinaria. La decisione, annunciata dai sindacati di categoria, va nella direzione di consentire a gruppi e imprenditori che si sono dichiarati interessati all'operazione di formulare la propria offerta di acquisizione debitamente perfezionata in tutti i minimi termini con l'obiettivo di realizzare una gara con maggior competizione tra le offerte che perverranno. Come FIMA Cisla nazionale e FIMA Cisla toscana avremmo preferito, fanno sapere, vista la delicatezza di questa importante vertenza, essere avvisati per tempo dai commissari di questi nuovi termini della procedura di cessione fortemente attesa dai lavoratori e che questa venisse comunicata e approfondita in un tavolo ufficiale istituzionale. A tal proposito, rimarchiamo la necessità che si proceda alla cessione dell'azienda al soggetto che avrà presentato la migliore offerta ma che tutto si risolva in maniera veloce entro i termini prefissati vista la scadenza dell'ammortizzatore sociale. Allo stesso tempo ci auguriamo che il posticipo serva a rafforzare la procedura e le qualità delle offerte da ultimarsi comunque non oltre le date indicate dal crono programma con noi condiviso. Per questo, concludono, chiediamo quanto prima una convocazione presso il Ministero per avere rassicurazioni rispetto all'iter di cessione e alle tempistiche.